La spending review poi nei fatti va affrontata, faccio un esempio su tutti. Per lei questo accorpamento ad esempio forestali-carabinieri le piace? Non molto perché dal mio punto di vista la forestale aveva una specificità ben definita e ben precisa che era notevolmente utile. Io rispetto alla spending review le cito una riforma che è la legge del Rio. La legge del Rio, quella della pseudoabolizione delle province che invece ci sono ancora ma andranno in default e le aboliranno con una tra virgolette eutanasia di bilancio. Oggi i dati come ci aveva premesso la Corte dei Conti ci dimostra che quella riforma ci costerà molto di più rispetto al fatto di mantenere le province così come erano prima.